Barbara Pugeddu si insedia nella poltrona di sindaca di Sinnai. Vediamo il servizio di Antonello Lai. La corona è quella che si mette alle persone di un certo rango che decidono le sorti di una città oppure di un paese. Le torri sono quelle che rappresentano Sinnai e siamo con Barbara Pugeddu che ancora una volta è seduta sulla sedia della prima cittadina. Che impressioni ha avuto? Innanzitutto saluto i telespettatori e coloro che ci ascoltano. È una sensazione bella naturalmente, è una soddisfazione dal punto di vista politico e personale ma allo stesso tempo è un carico di responsabilità importanti e quindi una corona che pesa di responsabilità su una comunità importante come quella di Sinnai. La Sardegna, il ruolo della donna in Sardegna è fondamentale, lo sappiamo tutti. Da un po' di tempo a questa parte poi la donna è anche al potere, sia economico e spesso politico. E come mai questa fiducia nei confronti delle donne? Dico finalmente perché c'è stata una battaglia di tante donne prima di me che hanno combattuto per la democrazia, la libertà e per la posizione che le donne devono acquistare e hanno acquistato finalmente dopo decenni, dopo tanti anni. Io ringrazio quelle donne che hanno fatto battaglie importanti. Oggi le donne ricoprono dei ruoli importanti dal punto di vista politico, dal punto di vista anche dirigenziale e quindi questo è un bel risultato. Allo stesso tempo penso sia una figura la donna a complementare a quella dell'uomo, quindi devono collaborare e non si può pensare altro, si deve collaborare.